E quindi con un grande onore che chiamo qua sul palco Franco Grillini, Presidente onorario Archigey, Presidente onorario Gaynet, per un breve saluto. Grazie. Grazie. Credo anche di essere iscritto da qualche parte, a qualche circolo. E devo dire che oggi intervengo particolarmente volentieri a questa vostra iniziativa perché il ricordo del 20 settembre della presa di Porta Pia mi è particolarmente caro. Intanto perché ho presentato, quando ero parlamentare, una proposta di legge per ripristinare la festività nazionale del 20 settembre. Noi abbiamo una festa che è la festa dell'unità del Paese, che è stata celebrata per mezzo secolo. E che è stata cancellata dai fascisti per essere sostituita dalla festa della marcia su Roma e dalla festa dei patti lateranensi. Dopo il famigerato patto Mussolini e Papa del 29, era una richiesta proprio esplicita del Vaticano, questa di cancellare questa festa che veniva vissuta dal Vaticano come un'onta. E tra l'altro provarono anche a chiedere la cancellazione delle strade intitolate al 20 settembre. Sapete che in ogni città c'è una piazza importante o una strada importante intitolata al 20 settembre. Di quell'episodio della presa di Porta Pia da parte dei bersaglieri, questi sono i militari che ci piacciono, i militari che difendono la laicità dello Stato e lo Stato unitario. Voglio ricordare un episodio storico che io cito nella mia proposta di legge, nella relazione. Che è il fatto che il Papa aveva scomunicato, aveva emanato una scomunica per chiunque desse l'ordine di sparare il primo colpo. E allora ebbero la pensata di farlo fare ad un tenente ebreo. Quindi il primo colpo su Porta Pia l'ordine fu dato da un tenente ebreo per il quale evidentemente la scomunica non valeva un fico secco. E quell'atto, quella presa di Porta Pia mi fa ricordare un'altra cosa in polemica esplicita con la Lega Nord che vorrebbe inventarsi uno Stato della Padagna che non esiste, se non nella testa di Bossi. La polemica sull'inno nazionale, sul tricolore e su Mameli. Allora ricordiamo che Mameli è morto a 21 anni sulla barricata qui a Roma per difendere la Repubblica Romana. E quindi diciamo viva il tricolore, viva l'inno d'Italia e viva anche Mameli, visto che è uno di quelli che ha dato la pelle per difendere i valori della laicità. Io guardate, intervengo nella città di Roma che è stata teatro negli ultimi due mesi di una grandinata, di una quantità di aggressioni contro le persone omosessuali spaventosa. Un ragazzo dino ha rischiato di perdere la pelle perché un idiota di nome Svastichella, e il nome è un programma, ha deciso di accoltellarlo per il semplice fatto che alle 4 del mattino abbracciava il suo compagno. Non è che facesse niente di particolare, un gesto d'affetto. Perché per certi personaggi anche gli affetti è un gesto d'amore, dà fastidio. E poi via via gli attentati, i petardi, le bombe carta, gli insulti, i pestaggi, fino a stamattina l'ennesima molovo buttata al circolo Cube, al locale Cube, dove si svolge la serata di Mucasassina, nel circolo Mario Mieli, dove partecipano ogni venerdì migliaia di persone. In un clima di crescendo che a mio parere non può che preoccupare. Beh, in tutto questo, dalle stanze vaticane non è venuta una sola parola. Si condannano sempre le donne che abortiscono, si condannano quelli che divorziano, si condannano quelli che pretendono di decidere di morire con dignità, ma non c'è stato un prete, non c'è stato un cardinale che ha trovato un secondo per condannare le violenze sugli omosessuali. E allora consentitemi di dire che chi tace ha consente. Non solo ci sono stati fatti agghiaccianti, veramente agghiaccianti, come quel tale Monsignor Martino che all'ONU ha detto di no alla mozione presentata da Sarkozy, non da un rivoluzionario anticlericale dell'Ottocento, ma da Nicolás Sarkozy a nome della Comunità Europea, quindi anche dell'Italia, per la depenalizzazione universale dell'omosessualità. Depenalizzazione significa che in 90 paesi dove essere omosessuali è un reato, in quei 7 paesi dove essere omosessuali significa essere condannati a morte, le gru con i cappi che noi abbiamo visto in Iran, perché purtroppo non c'è solo l'integralismo cattolico, c'è anche la follia islamica, poi io voglio concludere l'intervento su questo. Quei cappi, quei ragazzi di 16 anni, 17, che pensolavano da quei cappi perché avevano come unica colpa quella di essersi amati, beh, neanche l'abolizione della pena di morte gli andava bene, perché dicevano che se si depenalizza l'omosessualità si apre una porta, una strada maestra, un'autostrada al riconoscimento del matrimonio omosessuale e delle adozioni. È un'ossessione, non ci dormono la notte, non si può cancellare il reato, non si può cancellare la pena di morte per questo motivo. Loro hanno una teoria, quella del piano inclinato, e ce l'hanno soprattutto per l'Italia, perché l'Italia ormai è diventata l'ultima trincea per nostra sfiga, perché siamo qua, ce li abbiamo qua, è diventato l'ultimo posto dove gestiscono un potere semi-dittatoriale. E in Italia non è possibile approvare nessuna legge sui diritti civili, diritti di libertà, o sulle questioni che vengono definite eticamente sensibili. Guardate, io sono un pacifisto non violento, ma quando mi parlano di questioni eticamente sensibili mi verrebbe voglia di mettere mano alla pistola. Quelle non sono questioni eticamente sensibili, sono diritti umani garantiti in tutto il mondo occidentale. Poi sarà, perché dicono che noi omosessuali siamo così sensibili, e quindi evidentemente non si può parlare di questioni sensibili. Sta di fatto che non è possibile, non è stato possibile, da anni non è stato possibile, approvare nessuna legge che allargasse i diritti individuali di libertà. Anzi, siamo andati indietro con la legge 40, e adesso con questa porcheria del lodo Sacconi, l'hanno chiamato lodo Sacconi, siccome non riescono a provarla, perché questa roba fa schifo persino a fini. Guardate come siamo messi, dobbiamo affidarci a fini per avere uno straccio di laicità in questo paese. Come siamo messi? Uno che fino a 15 anni fa salutava così. Beh, comunque è per fortuna che forse si è ravveduto, chi lo sa, poi certi ravvedimenti in politica lasciano il tempo che trovano, ma insomma speriamo che tenga fede a quello che ha detto. Il lodo Sacconi, per cui si approva solo l'articolo per cui si è obbligato a vivere con un affare infilato finché non crepi. Questo vogliono fare adesso, perché? Perché Berlusconi deve recuperare sulle sue donnine, deve recuperare i rapporti col Vaticano e a noi toccherà pagare persino l'escor di Silvio Berlusconi in termini di laicità del paese. Perché per recuperare gli dovrà dare l'eutanasia, il fine vita, una marea di soldi per le scuole pubbliche e ovviamente il no alla legge sull'omofobia, come è già stato detto.